Per la Domenica di Carta 2023, il prossimo 8 ottobre, la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli espone per la prima volta la raccolta di lettere e autografi di Enrico Caruso, appena acquisite dalla Biblioteca Nazionale, che vanno ad arricchire il fondo Caruso conservato nella sezione Lucchesi Palli. Si tratta di una corrispondenza con l'amico Giovanni Mascia da New York, si legge in una nota, nella quale si trovano riferimenti ai successi al Metropolitan, ma soprattutto alla spiacevole vicenda delle accuse di molestie rivolti a Caruso e sulla disavventura del processo. Un'esperienza traumatica per l'artista, dalle lettere inoltre emerge la preoccupazione, ma anche il carattere gioioso che non si lascia battere. Esposta per la prima volta infine una rara edizione di caricatures da Enrico Caruso del 1922, acquisita lo scorso agosto dalla Biblioteca di Napoli.